Studi antropologici hanno evidenziato che lo sviluppo fisico dei Neandertal era diverso dal nostro, infatti c'erano delle differenze nei tassi di crescita dei Neandertal rispetto a noi. L'analisi della crescita del primo molare dei Neandertal ha messo in evidenza che questi ultimi raggiungevano l'età adulta a circa 15-16 anni, quindi avevano una crescita rapida caratteristica proprio dei primi ominidi. Per noi sapiens invece c'è un invecchiamento più ritardato. Probabilmente i tempi di crescita più veloci nei Neandertal erano necessari per avere una popolazione che fosse in grado appunto di vivere in terre fredde e in ospitali, quali erano quelle in cui vivevano i Neandertal perché appunto c'era l'era glaciale, per far fronte diciamo alla mortalità infantile che era alta e all'aspettativa di vita che era più breve. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale per avere maggiori informazioni.